La mancanza del sogno nei nostri bambini è proprio una cosa che ci ha colpito moltissimo. I bambini, ma le stesse famiglie, hanno una perdita che quasi non riescono proprio più a recuperare che noi invece cerchiamo appunto di attivare, che è quella della speranza. Queste famiglie e questi bambini hanno smesso di sognare, quasi non ne hanno proprio più la forza. Spesso sono solo così sovraccaricati dai loro problemi e riescono a guardare solo quelli tanto da perdere la speranza che ci possa essere un cambiamento. Quindi diciamo il nostro intervento all'interno di queste famiglie che pur disagiate conservano un po' di resilienza serve a loro per attivare la speranza che ci possa essere una nuova possibilità.